www.firenze.com Sulla FIPLI per lavori in direzione Firenze, 2 km di coda tra Empoli Est e Ginestra, in direzione mare 1 km di coda tra Ginestra e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!